Ci sono ancora dei punti poco chiari riguardo alla presunta violenza sessuale e i danni di una ragazza di 17 anni di Reggio Emilia che sembra essere stata aggredita sabato notte durante la Notte Rosa. Il racconto della 17enne è infatti molto confuso, probabilmente a causa della quantità di alcol assunto dalla ragazza. Intanto continuano le ricerche dei quattro slavi che sabato mattina hanno aggredito e tentato di violentare una 19enne che si trovava in spiaggia insieme al suo fidanzato. Ai medici dell'ospedale di Sassuolo dove la giovane è andata insieme ai genitori e ha dichiarato di essere stata violentata Riccione. All'arrivo dei carabinieri però ha raccontato ai militari un'altra storia. La violenza sarebbe avvenuta in una discoteca di Gabicce, a Riccione sarebbe andata soltanto in un secondo momento per fare il ritorno a casa e avvisare poi i genitori. Nessuna indicazione utile è stata data dagli amici che erano con lei, i genitori per ora non hanno sporto alcuna denuncia, sono comunque stati allertati i carabinieri di Gabicce Mare e Riccione. Grazie. 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 Grazie.